buongiorno a tutti oggi farò questo piccolo video perché molte persone ci chiedano sul gruppo quali sono le munizioni più adatte nei determinati periodi per la caccia partiremo con la caccia la stanziale altrimenti vengono video esageratamente lunghi stanziale come beccacce starne fagiani pernici e quant'altro tutto ciò che si caccia con il cane allora è vero che per la maggior parte i tiri a breve distanza diciamo come vi ho detto da molti le cartucce bene o male funzionano tutte questo può anche essere veritiero perché se sparo con una canna stretta tre stelle o addirittura due posso sparare anche una cartucetta del 10 tutto ciò che vola nei 25 metri io sono convinto che è difficile che vada via anche sparando più buffini il problema è trovare il giusto compromesso perché chi magari ha la fortuna di sparare molto vede che a fin dell'anno delle munizioni si ritrovano meglio di altro cioè il loro utilizzo è più specifico perciò partiamo dalle cartucce io e quelle che diciamo uso io per la maggiore che magari ho provato che ho qua a disposizione però non guardate tanto le marche ma cercate di capire l'utilizzo allora tipo un periodo come adesso l'apertura è stata ieri quindi tempo per fortuna ha piovuto il giorno prima molte zone quindi diciamo che è andata benissimo della temperatura e non come gli anni scorsi però di di norma chi caccia con il cane almeno in apertura dovrebbe sparare cartuccio un po più leggere poi è chiaro che ognuno può fare quello che vuole cioè io ho quasi sempre sparato 36 grammi in apertura quindi non è che quest'anno ho provato a cambiare usando munizioni un po più leggere però diciamo che l'utilizzo è quello allora le cartucce per sparare in apertura di media poi ognuno la vede ovviamente alla sua maniera si dividano per la prima canna in due modelli cioè la dispersante o la senza contenitore quindi vi faccio un esempio banale come ho cacciato io ieri canna 62 con prolunghe ported da 4 e 3 stelle prima canna una cartuccia senza contenitore 34 grammi piombo 7 seconda canna se ero nello sporco sempre una senza contenitore piombo 6 però 36 grammi se ero in un campo aperto una cartuccia 36 grammi piombo 6 con contenitore quindi vedete che chi caccia almeno io personalmente ho la possibilità di scegliere tra le tue canne quindi posso fare un po quello che diciamo voglio perché basta toccare il selettore magari hai il cane in ferma lontano cerchi di avvicinarti però considerate che a volte a camminare veloce a correre verso il cane il cane si eccita e tende a far sfrullare il sebatico però se non corri l'animale può andare via però spesso capita che l'animale va via lungo quindi poter selezionare la canna è molto più semplice per chi lo può fare chi si guarda di farlo però diciamo che in media partiamo dalla prima canna allora chi spara con le chi usa le dispersanti di norma per la stanziale si usa il 7 perché le dispersanti non le trovate ma è molto difficile trovarle in piombo 5 tipo questa è una dispersante piombo 5 34 grammi ma è molto raro trovare dispersanti con piombi grossi perché perché non apre la cartuccia dispersante il piombo più grosso che si può usare secondo il mio avviso è il 7 perché se no non ha senso c'è una dispersante una cartuccia devi sparare nei 20 metri nei 20 metri sfido qualsiasi animale forse loca non cade con il piombo 7 ma anche quella se presa nel punto giusto cade tranquillamente però diciamo che la dispersante di norma è 78 quindi le dispersanti ci sono 32 grammi non vi fate ingannare dal bossolo 32 grammi questa è una di quelle che uso di tutti perché più è leggera più è veloce 34 grammi appunto come detto che è la via di mezzo e le più pesanti 40 grammi ora lasciate farlo queste sono le tipologie di dispersante che di norma si usa sia per la beccaccia sia per i conigli sia per il fagiano sia per nici già la vedo un po più dura però spesso questa anche questa di 40 grammi spesso viene usata a chi caccia la lepre in prima canna in caccia nel bosco perché spesso la lepre schizza via a breve distanza quindi serve una cartuccia che apra ecco quella prima canna e lì inizi il dilemma delle canne cioè io personalmente caccia col quattro stelle chiaro che se sono un pianura e ho campi estesi però diventa un problema ogni volta stare a cambiare lo strozzatore quindi cosa faccio magari invece se ho in canna una senza contenitore una con contenitore magari metto una non so sto cercando una 37 grammi con contenitore piombo 5 magari nella speranza di una lepre e una 36 grammi piombo 6 in prima canna e ho due cartucce molto potenti due cartucce un contenitore quindi anche una lepre se la trovo e può partire a lunga distanza se rientra nei nei range giusti posso sparare quindi se hai un sovrapposto è più semplice se hai un automatico diventa un osa un po più macchinettosa però sempre meno che stare a svitare ogni volta lo strozzatore poi chi caccia la lepre in pianura e sta di posta può sparare addirittura queste qua queste sono magnum 56 grammi piombo 3 cioè qui si abbatte un selvaggio a qualsiasi distanza però diciamo che una cartuccia così che si chiama anche lepre piombo 3 con contenitore 37 grammi secondo me è la perfezione a livello di cartuccia c'è 38 grammi insomma diciamo che la magnum è un po' a discrezione però con i cani nei tiri estremi il piombo grosso e grosse grammature fanno sempre la differenza almeno da quello che ho provato io tornando al discorso dispersante il discorso canne la dispersante non è vero quello che dicono molti che nella canna cilindrica non va sparata io ho sempre sparato dispersanti in canna cilindrica e addirittura in determinati strozzatori paradox e uno dice perché fai vuoti si può succedere cioè è normale se spara una dispersante in una canna cilindrica ma se spara a 15 metri voglio sfidare una beccaccia qualsiasi selvatico o che possa passare tra un pallino nato forse una mosca però nei 15 metri c'è bisogna vedere che caccia fai è chiaro che se quello mi va in pianura e mi metto una cartuccia dispersante 32 grammi in una canna quattro stelle e va via una lepre a 30 metri e gli spari magari la lepre prende 10 pallini e va a morire quelle sbagliatissime poi è chiaro che io sono anche un po troppo fanati io sono sempre a cambiare chi viene a caccia con me lo sa cartucce però è anche vero che io animali feriti ne faccio pochi quando li prendo ma perché non puoi stare ogni volta a cambiare ma se devo fare un tratto di 5 600 metri in un campo di stoppia è inutile mi tengo una dispersante can piombosette in canna cilindrica cercherò magari da adattarmi perché se mi va via una lepre se vuole un fagiano anche se vanno via a tiro giusto hai sempre un po di spazio se caccio in un bosco fitto io tiro canna cilindrica dispersante piombosette in prima canna poi c'è chi dice non è sportivo ma se a voi vi piace mandare via gli animali si vada d'accordissimo insieme detto questo le dispersanti però diciamo che nel stare nel tranquillo chi può sparare dispersante a stanziale lepre fagiano 4 3 stelle se caccia in ambiti abbastanza puliti bosco fitto secondo me lo può sparare tranquillamente un cilindro magari aumenta un po di grammi per evitare che apra un po di più se ti capita un tiro un po più lungo ma nei 25 metri non c'è animale possa tenere anche una dispersante a canna cilindri chiaro una lepre gli ultimi giorni magari con un pelo forte e tutto se hai una canna piuttosto corta può avere qualche problema ma sfido chiunque a fare una prova di rosata e vedere che rosata viene la rosata viene grande se non non si chiamava dispersante questa è una per chi vuole sparare le senza contenitore qui vedete ciò ho una 36 grammi in plastica e in cartone diciamo la classica cartuccia che polivalente sia da beccaccio e fagiani anatre lepri questa è la classe cartuccia la più vecchia che che esista comunque senza un tenitore e si possano trovare di svariate grammature queste 34 questa e 36 grammi anche questa ecco diciamo ci sono di 40 ci sono di tutte le grammature questa è 36 grammi anche questa però diciamo che questa è la classica cartuccia che ti piazzi anche più un botto piombo sette sette e mezzo sei per la prima canna specie se spari anche un canne larghe quattro cilindrica tre stelle già per mia una canna stretta chi caccia con il cane e spara a tiro la cartuccia perfetta per evitare quals il tiro medio lungo e a corto e la queste munizioni da 34 a 36 grammi poi c'è chi spara anche 40 però io non 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 le uso via detta proprio chiaro e tondo non è che non vadino bene ma una cosa mia personale ho sempre sparato con armi molto leggere quindi una cartuccia 30 40 grammi inizia avere una bella botta però diciamo che i risultati nel tiro un po più sforzato si vedano molto la cartuccia 36 grammi la puoi trovare in borra feltro o in cuvette e puoi sparare a qualsiasi serbatico qualsiasi canna qualsiasi piombo che si trova fin dal 3 al 2 al 10 all'11 la cartuccia classica per fare un po tutto un po più lenta da 36 grammi rispetto alla 34 la 32 però diciamo che sono il classico e non smentisce mai cioè la cartuccia senza contenitori se cacci nel bosco la promettere anche prima seconda e terza canna i tiri sono lì cioè non è che puoi andare molto oltre molti lo fanno però diciamo che in terza botta che usa l'automatico la può usare può usare una con contenitore io la uso se cacciamo in pianura in prima botta magari a volte se c'è un po di sporco piombo 6 una 36 grammi piombo 6b ora è comunque un bel range e poi dire una con contenitore però diciamo che una 36 grammi può essere io questo modello quello uso piombo 9 per le beccacce quando sparavano e raggiato nella canna completamente raggiata io tiravo questa grammatura qui piombo 9 prima e seconda canna e mi sono sempre trovato bene anche sparando animali un po più grossi strozzatori raggiati si possano usare le 36 grammi le 34 diciamo che dovessi consigliare uno che va a caccia polivalente cioè dal bosco al campo a un po di pianura la 36 grammi e la cartuccia che vai sicuro qualsiasi modello prendi 36 35 34 grammi e lì non sbagli assolutamente mai queste sono diciamo le più quelle più 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 pratiche se caccio in pianura la metto in prima botta se caccio nel bosco metto magari prima e seconda magari metto un primo noto e dietro un 6 diciamo così capo situazioni limite con canne strette ecco canna stretta magari se caccio nel bosco a 36 grammi un po troppo chiusa meglio una 32 in prima canna colombacci dal palco 36 grammi magari 34 36 o 32 cioè diciamo che se io ho un automatico e prendo 250 cartucce bior 36 grammi più un v6 che parlo per i miei gusti con cambiando semplicemente gli strozzatori posso fare quasi tutti i tipi di caccia perché con cilindrico sparo vicino con un tre stelle faccio la lepre faccio colombacci dal palco o anche anatre dove è possibile e quant'altro se metto una stella ho sempre un reggio di quasi 35 metri a seconda delle canne quindi diciamo che la 36 grammi è la cartuccia polivalente secondo me per la caccia del cane palco comunque tutto ciò che avviene ai tiri di norma nei 25 30 metri e ovviamente si possono trovare in tutte le grammature 32 34 sono più veloci quindi in questo periodo forse anche più indicato una 34 grammi più la che si va che nella stagione è meglio secondo me una 36 però ti ripeto va in base ai tiri che uno fa se uno caccia conigli mini lepri dove è possibile spari a 10 15 metri se non usi una dispersante uso una b ora 32 grammi perché il selvatico è piccolo ti serve una cartuccia veloce si serve una cartuccia apre perché più l più e leggera più e veloce più apre quindi una 32 grammi non aprirà mai come una 36 o una 40 aprirà sempre un po di più comunque diciamo la 36 grammi bior o 35 è l'artuccia polivalente che cambiando lo strozzatore fai quasi il 99 per cento delle cacce che si fa con i cani da ferma in seguito proprio tornando al discorso mio dove caccio capitano anche tiri abbastanza lunghi perciò se entro con un cane in pianura incolti terre arate stoppie magari alla ricerca di qualche lepre o chi caccia col cane dal lepre si si parte a una situazione un po più come ho detto prima limite cioè una lepre un fagiano una pernice una star mai caccia le star nei caccia le pernici dove il terreno è pulito l'animale ti vede quasi sempre parte lungo magari l'avete trovato una volta poi riparto un'altra volta lì si inizia a andare su altri oggetti cioè lì inizi a vedere veramente la qualità delle armi e delle cartucce perché sparare una lepre a 40 metri o 35 40 già non tira abbastanza limite si vede tante cose canne e cartucce partiamo dalle più soft tra virgolette partiamo dalle più soft che sono le a mio avviso 36 grammi tipo questa questa è una 36 grammi questa è un'altra 36 grammi queste 37 grammi 38 grammi che è questa qui 38 grammi o si passa a guardando questa qua 40 grammi e poi via dicendo 42 fino a 46 46 per quanto riguarda il caricamento 70 oltre si inizia andare sulle mani ma si verrà dopo perché uno deve scegliere una cartuccia in base cioè a differenza delle altre queste sono munizioni che spesso si mettano anche in terza canna in seconda canna si caccia nel bosco perché perché hai più potenza cioè una 36 grammi come questa hai più velocità la vedo meglio su magari seconda botta o terza sulle starne pernici se cacci in posti puliti la vedo bene in terza botta per un chi caccia nel bosco la vedo bene anche in secondo in prima per chi caccia con canne molto larghe o raggiate per i fagiani soprattutto esempio chi ha un sovrapposto raggiato che magari fa poco la caccia la fagiane va alla beccaccia però non sta di comprare il fucile in prima botta consiglio sempre cartucce con contenitore 37 38 grammi 37 più un po grosso perché aprendo molto la ganna raggiata per di tanta velocità per di tanta rosata quindi spesso fagiani o le pernici volano un po più lunghi quindi serve una cartuccia più potente piombi più grossi perché quei pochi che gli arrivano devono fare del danno più e pesa più rimane chiusa la cartuccia quindi se sparo una 40 grammi esempio la rosata arriverà più concentrata anche a lunghe distanze lunghe distanze e per un raggiato vuol dire 30 metri ma già è un bel tiro 30 metri per un raggiato io starei più su 25 quindi tutto ciò che vola oltre serve insomma parecchia fortuna e molti animali vanno vanno via ve lo dico perché io l'ho avuto per 4 anni e fortunatamente l'ho usato poco sulla stanziale però quando è capitato se non avevi cartucce che pigiavano non vedevi neanche se l'avevi preso e molte volte ritrovavi anche morti comunque situazione classica collina spoglia caccia alla lepre cosa faccio se io ho una 36 grammi la posso piazzare in prima botta con tre stelle ma dopo devo mettere una 38 e magari una 42 una 46 e uno dice se posso stare tutte le volte a cambiare le cartucce fatti si manda via gli animali feriti quante volte è capitato di sparare alle lepre spari l'animale va via come neanche toccato e poi si ritrova morto perché perché non riceve una carica giusta di piombo quando sparate grammature abbastanza grosse si vede l'impatto se hai posto per sparare io sono sono più che contento di consigliare munizioni pesanti perché se la colpa è tua perché non si può arrivare si il piombo arriva uguale perché non è che una cartuccia 32 grammi il piombo arriva più piano di una 40 attenzione se io sparo una dispersante 32 grammi piombo 5 e sparo una 40 grammi con contenitore piombo 5 magari il pallino a 40 metri sfonda lo stesso alla stessa penetrazione prova visto le polvere gli altri discorsi problema è che una dispersante tra un piombo e un altro c'è mezzo metro la 40 grammi ci sarà 15 centimetri quello che concentra la rosata in più una con contenitore una senza però quando spari a quelle distanze lì conta veramente tutto poi basta vedere chi ha sparato alla lepre vede quando spara magari nei campi si vede la fucilata che scia fa si vede come la mette quando tiri cartucce grosse cariche insomma se ci riesce a centrare perché il problema di sparare grosse aree che devi dare più anticipi quindi consiglio mio caccia in pianura magari chi caccia alla posta la lepre o chi va con cani tipo gli springer tipo altri cani da ferma e capita che trova le lepre vanno un po più lunghe consiglio mio in automatico su un automatico 36 grammi prima volta magari piombo 5 perché a volte ti può capitare anche che va via a tiro o va via un fagiano queste cose qui poi dietro 38 grammi o 40 poi chi vuole andare su si possano trovare ripeto anche queste magnum e qua o addirittura le le federa al premio che tanti conosciamo lì si va su altri oggetti e tiri su esagerati poi quando hai quella roba lì il tiro lo azzardi e spesso anche se sono cartucci con tanto piombo magari prendi l'animale con poca parte della rosata l'animale va a morire detto questo passiamo al discorso del per quanto riguarda cartucce grosse io le consiglio dove i tiri sono lunghi non consiglio mai una 40 grammi per chi caccia nel bosco con contenitore perché non ha neanche il tempo di aprirsi mi raccomando o spari con una canna cilindrica allora qualcosa apre in più ma se tiri con tre stelle 40 grammi nel bosco sono totalmente sprecati fino a 20 metri sono cartucce che non aprono se spari il piombo grosso non apre se tiri una senza contenitore tipo questa 36 grammi piombo 5 pensando che apra in un bosco con tre stelle a 15 20 metri fa una buca quindi il cilindrico quando si sente ragionare che il cilindrico non ammazza i ragazzi e marco caldelli lo sai che voglio dire la differenza si vede bisogna vedere dove spari è chiaro che c'è un limite a tutto ma chiunque può fare una prova mette un cartone in qualche poligono che te lo possano far fare fai una rosata è semplice io dico queste cose perché ho le prove certe non è che mi metta a dire cose che anch'io prima per me la caccia era solo canna 3 1 o 4 2 cartucce senza un tenitore se non da un contenitore quando spari a un fagiano a 15 20 metri che ti vola nel bosco e vedi che porti via rami interi c'è qualcosa o se li prendi non si sa che condizioni qualcosa che va a cambiare cartucce con contenitore di grossa carica io le consiglio o massimo un terza canna o se non in zone in cui lo richiedono ma soprattutto sul lepri su questi animali che richiedano un tiro importante tipo dove caccio io in emilia che ci sono vasti campi aperti magari in seconda e terza canna una 40 grammi ti può risolvere la giornata perché una carica di 40 grammi piombo 4 non sarà mai come una 36 piombo 54 e questa è quanto riguarda la munizione poi si passa a cose un po più estreme che io uso per la caccia alla volpe però sono molto usata anche per la repre è questa è una 42 grammi dispersante piombo 3 penso una delle poche nel suo genere e questa che è con contenitore 0 e uno dice ma perché io devo calciare con queste munizioni qui perché si ritorna al discorso di prima ora queste sono cartucce che io menziono soprattutto per la caccia al canale alla volpe perché una dispersante piombo 3 che avete già visto il video su wild hunter di alessandro magnociaggio e c'è tutte le prove perché hai bisogno di potenza e di apertura perché una carica grossa ricordatevi bior o con contenitore non aprirà è difficile che apra se non uso canna cilindrica tipo da tre stelle in su nei venti metri è una palla quindi tutto c'è anche questa questa che è una dispersante piombo 3 proprio un po grosso grossa carica e non la puoi fare più leggera perché tigiani un animale o me la volpe animale che incassa bene se non può aprire tanto se non spari con una canna giusta quindi caccia col cane la volesse usare alla lepre canaio canna 4 stelle e questa se caccio in pianura magari anche canna 2 stelle questa o una bior o una quella che vi pare perché chi caccia col cane la lepre spesso parte molto vicino ai piedi io ieri ho visto abbattere una lepre da un signore con il cane da seguita che i cani seguivano semplicemente la traccia della lepre non era una canizza vera e propria e la lepre è sgusciata via a 10 metri dal cacciatore cioè lo ha sparato a 15 20 metri massimo cioè io ho visto la fucilata indiretta è come se avesse sparata a palla la lepre l'ha quasi dilaniata è normale canna 71 2 stelle spari a 15 metri il piombo del 4 e come avevi disparata a palla mezza lepre è stata da buttare via cioè una pianura immensa aspetti un secondo so che poi c'entri il discorso cane però c'è qualcosa che giustamente prendi quello che viene detto questo poi si passa anche ai piombi tipo questi piombi del 7 e mezzo 6 e mezzo questo è 5 e mezzo questa è una cartuccia 36 grammi 5 e mezzo che ora è per la scritto colombaccio ma ottima anche per la caccia alle pernici in seconda e terza canna dove i tiri sono sempre rapidi e veloci ecco animali come pernici gali forcelli starne che volano molto veloci animali non troppo piccoli non troppo grandi si può usare anche cariche sempre leggere e più o meno più fini quindi una 40 grammi con un contenitore a una starna a una pernice perdi di velocità e non ha neanche un gran senso a mio avviso poi ripeto ognuno fa come vuole perché ho conosciuto grandi arciatori che sparavano solo 40 grammi o grandi arciatori che sparavano solo 32 eppure li abbattevano uguale chi usa grammature leggere io consiglio di usare canne più strinte gli altri possano usare anche canne un po' più larghe poi c'è la classica diciamo una delle cartucce che si fa un po' tutto che questa è una vecchia ranger winchester che non è più prodotta però per farvi capire la tipologia 36 grammi più un botto altra cartuccia che cambiando gli strozzatori con contenitore fai gran parte delle cacce ma anche se non è 36 35 è uguale stare in un piombotto che cambiando le strozzature fai dalla caccia alla lepre nel bosco o anche alle pernici alle starne però hai la potenza di una grossa carica il piombo fine sì ma con contenitore e ti trovi bene anche in canna cilindria tra virgolette per andare alla beccaccia anche se non sarebbe la sua però diciamo un piombotto ti risolve tanto le situazioni un po è lì diciamo nel tiro breve lungo se con contenitore se no diventa un piombo su una lepre un po più piccolo ecco meglio un piombo otto è paradossale meglio un piombo otto di una 36 grammi con contenitore o senza di una 40 piombo 5 per sparare a un fagiano nel bosco questo ve lo sconsiglio non pensate che più piombo aiuti molto perdete di velocità avete sì più potenza e perdete di ampiezza di rosara i piombi grossi con il cane a mio avviso li vedo bene solo per la caccia alla lepre dai 40 grammi in su è dai 40 grammi su solo per la caccia alla lepre e in quei tiri in cui non puoi fare a meno perché una artuccia classica come questa che è cent'anni che la fanno un mb long range 36 grammi un contenitore ne avanza per abbattere gran parte dei selvatici nel bosco in collina in pianura dove il tiro può essere alzardato perché io conosco tanti che cacciano la lepre con due stelle 71 perché appunto seguendo chi va con i cani molte volte la lepre schizza via lontana e in pianura capitano dei grossi tiri ma nel bosco tantissimo andai sparato una 36 grammi con contenitore non c'è selvatico forse gallo cedrone che tenga quindi niente spero di aver risposto alcune domande di chi inizia ricordatevi fatevi consigliare sempre dalle persone che vi portano a caccia un po più esperte bosco fitto non avete paura a provare le dispersanti o quelle senza un tenitore se non vi fidate della carica della dispersante mettete un aumentato una stella se sparo un 5 metto 4 però fate le vostre prove vedrete che nel tiro ravvicinato cambia molto la rosata e ovviamente cambia anche il risultato alla prossima grazie a tutti